Un messaggio al governo forte e chiaro, un messaggio che parte dal Veneto. Le coordinate sono quelle del Vicentino, per la precisione, San Pietro Mussolino, dove soffia il vento del futuro. Un convegno per condividere idee innovative, programmi di crescita tecnologica e sociale, stringere il rapporto tra aziende e territorio e promuovere il Made in Italy. Tre le principali azioni del governo oggi al fianco dell'imprenditoria. La riforma del fondo di garanzia delle PMI, perché non esiste il credito se non ci sono le garanzie. La riforma del sistema degli incentivi, 5 miliardi dal Repower U per la transizione 5.0. E poi la riforma fiscale, stanno arrivando i primi decreti attuativi e quindi anche in quell'ambito, con tutta una serie di iniziative volte a semplificare, ridurre gli adempimenti, ma anche ridurre la tassazione per le imprese che investono e quindi anche qui un incentivo agli investimenti. Istituzioni, politici, imprenditori, protagonisti prestigiosi per un obiettivo ambizioso. Far arrivare al governo, ma anche alla regione, la richiesta di un maggior dialogo e confronto con il mondo delle imprese vicentine e venete. La priorità imminente è aprire quanto prima la Pedemontana, contiamo prima dell'estate avere l'apertura definitiva di questa importante arteria che si sviluppa nel cuore pulsante produttivo imprenditoriale del Veneto. Ma quello che secondo me, ma anche insomma da quello che stiamo discutendo proprio in questi mesi in regione c'è bisogno su questo territorio, è uno sbocco verso nord. Stiamo parlando della provincia di Vicenza, che è la terza provincia per produzione di pilla a livello nazionale, che non può non avere uno sbocco verso i mercati del nord Europa, quindi verso la grande economia. Tanti temi sul tavolo, dall'innovazione alla tecnologia, dalla sostenibilità allo sviluppo e non sono mancati gli accenni a temi su cui il sistema imprenditoriale ha sempre dimostrato grande sensibilità, gli incentivi, il fisco, le infrastrutture. Non è che chiediamo chissà quali aiuti o altro, soprattutto se degli aiuti ci devono essere, che siano aiuti ben mirati e che puntino soprattutto sull'innovazione, perché il futuro delle aziende è solo nell'innovazione.